salve a tutti se vi state chiedendo se tengo la mia barba così per essere sexy la risposta è sì sono rimasto solo a casa a scrivere e quindi non mi va di uscire di casa? sto sopravvivendo col gelato acquistato che non va a me ma Maya Maya va vai maia male sono 2m ecco se veniste a mangiare maia mi sei imparata e ferita a casa mia ecco sarei sarei ancora più contento poi adesso spesso su youtube c'è una moda bellissima che è quella lì di iniziare i video in piscina e mi sento e lo sapevo bisogna sempre chiedere un pochino di aiuto alle persone che ti ritirano sul mazzo marco mm mi dice inizia il video urlando hashcalla hashcalla però il video è già iniziato esattamente come dice la bibbia aspetta 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 Grazie a tutti.